Antonio eri in lotta per la vittoria, poi l'episodio con Bwemi ha complicato tutto, come puoi raccontare? Lui ha deciso di andare a attack mode quando il giro che io stavo più vicino di lui, 5 giri prima ero molto più lontano e lui poteva andare a prendere l'attack mode senza rischio per lui e in quella curva lì quando tu dici di andare a attack mode deve proprio rallentare moltissimo nell'apex della curva e io nella mia posizione non ho forma di sapere che lui lo farà, ero proprio attaccato a lui e quando lui frena la macchina 30 km in ora più di tutti gli altri giri non c'è niente da fare della mia parte.